Musica Grazie a tutti. La libertà è il diritto di lavoro, il lavoratore non è. La libertà è il diritto di lavoro, il lavoratore non è. Difendere la democrazia e i diritti non solo contro il governo, ma anche contro il terrorismo e contro la repressione che il governo fa utilizzando il corpo di Marco Biagi come una clava da picchiare sulla testa del movimento. Le persone che sono qui sono a dire no al terrorismo, a difendere la democrazia e a chiedere universalità nei diritti e protezioni sociali efficaci, perché anche quelle sono parte della democrazia sostanziale di un paese. La libertà è il diritto di lavoro, il diritto a reintegro nel proprio punto di lavoro a seguito di licenziamenti. Grazie a tutti.